Oggi la palla ritorna nel campo, è stata nelle procure, è stata nei tribunali, purtroppo è stata molto anche sui giornali, da domani ritorna in campo. Si torna a parlare di calcio giocato ad Arezzo, infatti ormai una realtà, l'esercizio provvisorio dopo il pagamento avvenuto oggi degli stipendi, 372 mila euro. In città sono arrivati anche i curatori fallimentari che si occuperanno appunto del futuro dell'Unione Sportiva Arezzo. Da questa mattina, ma già da ieri, ci siamo messi io e il collega subito al lavoro per capire come superare la prima scadenza importante che era quella di questa mattina, quindi avere la disponibilità dei conti con l'autorizzazione ovviamente del tribunale nella persona del giudice delegato e siamo riusciti a completare il tutto proprio poco fa, entro le ore 15, la banca ci ha dato la conferma di aver effettuato tutti i bonifici. Grazie alla raccolta fondi portata avanti dal comune di Arezzo è stata così onorata la scadenza fissata per oggi della Lega e alla quale era subordinato l'esercizio provvisorio, molte le aziende che hanno contribuito alla salvezza della società Amaranto, così come singoli cittadini e tifosi. Io ho fatto più telefonate in questi giorni a cercare soldi che non ho mai fatto in una vita e devo dire che io non sono bravo nel chiedere soldi, però alla fine questo era quello che bisognava fare. Da adesso dunque spetterà i curatori nominati dal tribunale di Arezzo gestire la società Amaranto con l'esercizio provvisorio che potrà così continuare il campionato senza incorrere in ulteriori penalizzazioni. Il problema dell'esercizio provvisorio è che deve avere la possibilità di autosostenersi e quindi si dovrà continuare in questo sforzo per garantire la possibilità di arrivare fino alla fine dell'esercizio provvisorio. Dopo quasi un mese di sosta forzata, l'Arezzo domani scenderà nuovamente in campo, ospitata dalla Viterbese. E mi sento di dire solo tutti a Viterbo ragazzi, tutti a Viterbo.